Jens Kajust è un nuovo giocatore del Napoli il Napoli ufficializza il secondo acquisto ufficiale di calcio mercato è un nuovo vestirà la maglia del Napoli per i prossimi cinque anni ciao ragazzi e bentorni in questo video qui a Giapez oggi stiamo qui ragazzi in un nuovo video appunto qui nel Giapez appunto per parlare di calcio mercato oggi parleremo di calcio mercato Napoli quindi mi raccomando vi andrò ad analizzare i cifri e i dettagli dell'operazione per il quale Napoli ha ufficializzato il nuovo acquisto Jens Kajust e poi ovviamente vi dirò qualcosa sulla sua diciamo carriera tra virgolette perché comunque è un giocatore sconosciuto ma adesso ve lo andrò ad analizzare prima di tutto ciò un mi piace qua sotto ditemi la vostra con un commento mi raccomando che cosa ne pensate del calciatore dell'acquisto del Napoli ovviamente se siete nuovi iscrivetevi al canale e attiate la campana per rimanere aggiornati tutto quanto la settimana vi ricordo seguite il video fino alla fine perché alla fine do il voto a questa operazione del Napoli e ovviamente recuperate i scorsi video che trovate qua sopra nelle schede a fine video e niente mi raccomando seguitemi su Instagram per rimanere sempre aggiornati perché sto in vacanza se volete vedere quello che sto facendo in vacanza vi ricordo che stasera più tardi uscirà un video importante di una serie che sto portando davanti sul canale già programmato quindi uscirà un altro episodio non ve lo perdete allora diciamo che è arrivata l'ufficialità proprio due ore fa praticamente l'ha ufficializzato anche Gianluca Di Marzio quindi Sky Sport quindi fonti affidabili Jens Cajust sarà un nuovo giocatore del Napoli fino al 2028 per i prossimi cinque anni questa sera atterrerà appunto all'aeroporto di Napoli e nella giornata di domani dovrebbe fare le visite mediche a Villa Volturno e si aggregherà con il resto della squadra le cifre che si parla dell'operazione il costo per il quale è stato acquistato Jens Cajust si parla per il giocatore 23enne quindi di 12 milioni di euro che andranno nelle casse del Rams che è la squadra che l'ho acquistato dal Mitichland e quindi vestirà la maglia partenopea per i prossimi cinque anni a una cifra pari a 12 milioni di euro lui è un mediano non ne parleremo e l'ingaggio che dovrebbe percepire il giocatore svedese si parla di un contratto un quinquennale da 1.2 milioni di euro a stagione più bonus e lui sarà il giocatore che andrà a sostituire Don Belè perché Don Belè non è stato riscattato dal Napoli e lui sarà proprio quel giocatore che andrà a ricoprire quel ruolo che aveva appunto Don Belè costato ovviamente molto di meno rispetto a Don Belè e quindi il Napoli e poi tra l'altro è pure molto giovane il Napoli potrebbe aver fatto un colpaccio adesso ne parliamo chi è appunto Jens Kanjust innanzitutto vi dico che è un classe 1999 quindi giovanissimo 23 anni, giocatore mediano, calciatore mediano quindi centrocampista difensivo del Gothenburg è nato a Gothenburg quindi in Svezia ha iniziato la carriera appunto in Svezia molto giovane è un giocatore completo, un mediano completo perché è bravo è dotato sia di un'ottima tecnica che visioni di gioco ma sa anche nello stesso modo difendere si è trasferito praticamente quando era giovanissimo in Cina quindi per poi tornare in Europa è la squadra del quale ci ha messo le mani nel 2018 il passaggio in Danimarca al Meticland quindi è un giocatore che ha giocato in squadra con Ikas Ikas Ikasen che è il giocatore che ha acquistato la Lazio quindi è un suo compagno, ex compagno di squadra e poi praticamente nel primo approdo appunto a gennaio approdato gennaio 2022 approdato a Rams in Francia praticamente dopo quattro anni in Danimarca è passato in Francia a Rams con il quale ha totalizzato 31 presenze tre gol e un assist con il Rams quindi diciamo una stagione piuttosto sopra le righe e diciamo che ha solamente 23 anni è abile sia in interdizione che in impostazione quindi sia nella doppia fase lui è un giocatore anche box to box all'occorrenza può giocare anche come mezzala perché è un giocatore dinamico molto bravo in fase di interdizione e di impostazione quindi può fare anche la fase di regia può agire sia da mediano puro che da mezzala questo è il sunto è molto duttile è un giocatore di qualità ha solamente 23 anni ripeto quindi è giovanissimo ed è già nel giro della nazionale con la Svezia appunto ha totalizzato su transfer market innanzitutto vale 6 milioni il Napoli ha questo al doppio a 12 milioni in Svezia ha totalizzato 15 presenze con la nazionale svedese quindi diciamo non tantissima diciamo è anche molto giovane dall'altro canto lui potrebbe essere sia il vice Lobotka che il vice Zambanguissà secondo me potrebbe entrare nello scacchiere non credo che andrà a ricoprire il ruolo che ricopriva Zielinski però non si sa mai perché è un giocatore giovane in rampa di lancio potrebbe anche essere potrebbe anche essere il sostituto di Zielinski che ovviamente si è trasferito in appunto in Arabia Saudita però secondo me lui andrà a ricoprire il ruolo o di vice Zambanguissà o di vice Lobotka secondo me però non si sa ma magari esplode chi lo sa il Napoli potrebbe aver veramente fatto un colpaccio e vi dico un po' quello che ha fatto nella sua carriera allora lui comunque ha vinto in Danimarca ha vinto una coppa del campionato danese campioni Danimarca e ha vinto due coppe di Danimarca quindi qualche trofeo l'ha vinto magari non tantissimo però comunque è un giovanissimo in 40 presenze praticamente nella Super League Super League come cacchio si chiama Super Legion ha fatto 40 presenze e due gol il Ligan 39 presenze 5 gol e un assist mentre nel campionato danese ha fatto appunto 40 presenze e due gol questa è un po' diciamo la sua carriera non è un giocatore famoso quindi in generale è molto diciamo è da scoprire un giocatore con le sue qualità come si può ambientare in Italia io con le sue comunque alto 1,88m con la sua dinamicità e la sua qualità tecnicamente ben dotato come voto a questa operazione di calcio mercato del Napoli do un 7,5m non voglio esagerare però rapporto con gli apprezzo giovani e tutto quanto un 7,5m se lo merito non do di più perché ovviamente non lo conosco bene però secondo me questo è un bel colpo veramente un bel colpo preso a poco giovanissimo in rampa di lancio il Napoli fa l'affare fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto con un commento iscrivetevi se siete nuovi al canale rimanete a giornare e sintonizzati sul canale e su Instagram da Giabria grazie a tutto e noi come al solito ci vediamo un prossimo video ragazzi sempre e comunque forse il calcio dai iscrivetevi ciao